Ciao e bentornati, io sono Valerio Novara di Ciacchiazione, oggi vi parlo di Drive My Car, il film che ha vinto il premio ai Golden Globe come miglior film non in lingua inglese. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube per restare aggiornati su tutte le news che riguardano i film e le serie TV e di cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook Ciacchiazione e mettere mi piace sulla nostra pagina Instagram Ciacchiazione. Allora, Drive My Car, parto subito col dire che è un film che dura tre ore, quindi preparatevi anche psicologicamente a questa cosa e che i titoli di testa iniziano dopo 40 minuti. È un film che mi è piaciuto ma che non mi ha fatto impazzire come invece mi aveva fatto impazzire per esempio il film che l'anno scorso agli Oscar ha vinto come miglior film straniero Another Round, un altro giro, tra l'altro trovate la recensione all'interno del nostro canale. Drive My Car, il film prende spunto da una raccolta di racconti di Murakami che si intitolano Uomini senza donne e il riferimento lo capirete a breve perché il film inizia con il sesso, con una scena di sesso fra il protagonista e sua moglie e la particolarità già dall'inizio del film, è un film con attori giapponesi, ricordiamolo, è un film giapponese, la particolarità di questa scena di sesso iniziale è che lei, la moglie, durante l'atto inizia a recitare e a dire una sorta di sceneggiatura e effettivamente quando marito e moglie, il protagonista con la moglie, facevano l'amore la moglie era solita ispirarlo per le sceneggiature che poi lui andava a rappresentare, lui era un drammaturgo che andava a rappresentare a teatro. Un inizio molto interessante anche perché c'è questa cosa che lo spettatore si chiede ma perché questa donna recita, come se recitasse durante poi un atto, quello sessuale, che è il momento più intimo in una coppia. Solo che il rapporto fra i due vede lui, Yasuke, il protagonista, che non riesce ad esprimere tutto quello che prova, una persona molto introversa, una persona molto chiusa, non riesce ad esprimere quello che prova nei confronti della moglie Oto finché quest'ultima un giorno viene colpita da un'emorragia cerebrale e in casa muore senza che lui, il marito, ci fosse e che riuscisse soprattutto a dirgli alcune cose che riguardavano la loro relazione. Questo lutto, quindi qui il rimando a Uomini senza donne, sono molto curioso di leggere anche questi racconti del grande Murakami, questa cosa si ripercuote sulla vita del protagonista e del drammaturgo finché non gli viene chiesto di rappresentare a teatro, a Hiroshima, l'opera teatrale Zio Banja di Chechov. Scusate se pronuncio male i nomi, ma evidentemente, essendo nomi stranieri, perdonatemi, ma se non li pronuncio bene, ma i protagonisti veri del film, e da qui il nome Drive My Car, sono sia lui il protagonista, il drammaturgo, che quest'auto, questa Saab 900 rossa. Quest'auto, allora, lui amava guidare l'auto e riascoltare le cassette nelle quali la moglie recitava queste sceneggiature, che poi lui metteva in piedi a teatro, e le riascoltava per memorizzarle, quindi sapeva tantissimi dialoghi a memoria di tutta la sceneggiatura delle sue opere. finché gli viene proposto di fare questo Zio Banja e gli viene affidata un'autista, un'autista di 23 anni. E sono due persone che si ritrovano in quest'auto, e quindi gran parte del film è ambientato all'interno dell'auto e sul palco del teatro, nelle quali c'è una rielaborazione del lutto sia da una parte che dall'altra. Sono due persone profondamente introverse, lui, dopo la morte della moglie, è venuta così all'improvviso, e prima della quale non era riuscito a dirle e a confrontarsi con lei su alcuni episodi, tipo il fatto che la moglie lo avesse tradito con un ragazzo, non riesce a confrontarsi con la moglie e ci sono molti sospesi che il protagonista non ha mai avuto modo e né la volontà e né la forza e né il carattere per risolvere. Tutto il film ruota intorno a questo carattere duro, aspro, silenzioso, tagliente. Le risposte del protagonista sono spesso taglienti anche nei confronti di chi lavora con lui, finché, finché, quindi qui, ripeto, tutta la comunicazione sia verbale che espressiva. Una delle cose che mi è piaciuta del film sono le inquadrature, quindi i primi piani che vengono effettuati sul protagonista e su questa ragazza, molto più piccola, silenziosissima, capace di guidare ore e ore, giornate interi senza parlare e quindi senza essere di compagnia a lui, ma piano piano, nel corso di questi lunghi viaggi, entrambi si aprono l'uno all'altro e scoprono delle parti, delle zone oscure del loro passato che riemergono in questa rielaborazione del lutto. Non starò qui a spoilerarvi il finale e nemmeno quello che c'è dietro a questo rapporto che è un crescendo durante il film e il cambiamento del protagonista è un crescendo. È un film fatto molto bene che però non è per tutti. Lo dico subito, non è per tutti, è un film che può risultare un po' pesante in alcune parti, anche perché, comunque, è un film che dura tre ore e che non ci sono quei momenti di colpo di scena e che accadono chissà cosa. Ci sono delle visioni sulla comunicazione. La comunicazione non verbale riguarda, per esempio, anche il linguaggio dei segni. A un certo punto, nel corso delle prove per questa opera teatrale che il protagonista deve mettere in scena insieme ad altri attori, c'è una ragazza che è sordomuta e che gli parla attraverso il linguaggio dei segni e che gli dice anche delle cose molto forti che lo fanno riflettere e ragionare sul suo passato e su tutte le cose che non ha detto avendone la possibilità, perché, comunque, è una persona in grado di parlare a differenza sua. Mi sono piaciute le interpretazioni degli attori. Sto rivalutando tantissimo il cinema asiatico, ma già da qualche anno comunque attori e film asiatici, in particolare sudcoreani, giapponesi, si stanno imponendo nel panorama cinematografico mondiale e credo che a questo punto ne sentiremo parlare anche in vista degli Oscar. Fermo restando che, personalmente, mi dispiace che la mano di Dio di Sorrentino, il film di Sorrentino, non abbia trionfato ai Golden Globe, ma chissà che non possa dire la sua agli Oscar. Per quanto riguarda Drive My Car, la grande protagonista è questa Sub 900 rossa, l'auto che racchiude un po' il luogo dove emergono passato, presente e riflessioni sul futuro di questi due personaggi, quindi del protagonista e di questa autista molto più piccola. Il finale, il finale è un finale silenzioso, non è parlato, sono alcuni minuti, dura alcuni minuti questa scena finale su questo palcoscenico in cui si comunica solo attraverso il linguaggio dei segni, ma vi lascio a voi anche i commenti e il giudizio su un film molto particolare, bello, perché comunque sia il messaggio introspettivo del talvolta non riuscire a comunicare i nostri sentimenti che siano di rabbia d'amore o positivi o negativi insomma ci fa chiedere se non l'avessi fatto prima cioè se l'avessi fatto prima che cosa sarebbe accaduto se ci fossi stato avrei potuto evitare la morte di una persona amata e i tanti sé che accompagnano poi la vita delle persone. Un film che vi consiglio di vedere di recuperare lo trovate online sottotitolato in italiano ovviamente in giapponese e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e io vi do appuntamento alla prossima recezione.